Saluto i pellegrini polacchi. Oggi a Katowice si svolge un importante evento culturale e religioso, una sacra rappresentazione sulla vita e sulla spiritualità di San Francesco, con la partecipazione di centinaia di attori e migliaia di spettatori. Agli organizzatori e ai partecipanti auguro questo incontro artistico con il poverello di Assisi susciti nei cuori di tutti l'amore per Dio creatore, il rispetto per il creato, la fattiva carità per coloro che necessitano dell'aiuto spirituale e materiale. Voi tutti qui presenti e i vostri cari affido alla celeste intercessione del Beato Giovanni Paolo II nel trentacinquessimo anniversario dell'elezione alla Catera di Pietro. E di cuore vi benedico, sia lodato Gesù Cristo.